musica 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 dicendo lo sto facendo con l'approximazione bianco diva mostrando con quelli i pacchi dettori eeeee E vai tuo lo stupito musica Giorno! 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 Fa tutto parte del making of questo. No, questo ci si sta anche nel video secondo me. Sì! Tira fuori la bacchetta da davanti! Stop! Azione! Non ridere! Non ridere! Non ridere! Sei... sei morto tu! Sei in... Siamo! Aspetta eh! Sì! Tortalo fuori sto povera! Certo ci siamo divertiti! Salve a tutti! Siamo! Siamo! Salve a tutti! Siamo i brother creepers! Certo ci siamo divertiti! Ma volevo ricordare! No! 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 Ma per favore! Paolo! Allora! Salve a tutti! Siamo i brother creepers! Ci siamo divertiti! Certo, ma volevamo ricordare tutti Facciamo un altro per sicurezza che ci siamo affinato per un video Ogni anno migliaia di Kedal vengono sterminati inutilmente dalla fame di poveri Se volete fermare anche voi questo scempio, unitevi al su Cazzo non l'avevo ancora fatto a questo, scusate, scusate Jack! 93 Salve a tutti Salve a tutti Guarda in macchina Salve a tutti, siamo i brother Kedal Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Salve a tutti Siamo i brother Kedal Volevamo ricordare Salve a tutti, salve a tutti, salve a tutti Siamo i brother Kedal Unitevi al su Ok, se volete fermare anche voi questo scempio Come noi unitevi al su Salviamo Humanity Silenzio, silenzio Volevamo parlarvi di una cosa molto seria Ogni anno vengono sterminati Teniamo buona quella E vaffanculo Vediamo quella buona Grazie a tutti Grazie a tutti